Ciao a tutti, mi chiamo Bellina Vincenzo Antonio, arrivo da Milano. Dopo vari problemi per la dentatura, ho deciso di intraprendere questo percorso dietro consigli di amici e conoscenti. All'inizio titubante, ho preso la grande decisione di intraprendere questo viaggio e è iniziato il mio processo. Mille paure, mille dubbi, ma una volta rincuorato del lavoro che c'era da fare grazie anche agli operatori che mi hanno seguito tutti e continuerò a ringraziare. Cosa posso dire? Contentissimo, finalmente posso ritornare a sorridere. Allora il disagio era, ok, mille lavori fatti da dentisti, ahimè, non competenti. Poi si è aggravata la situazione con l'uscita di questa paradontite con la conseguenza della perdita dei denti. Un disastro perché si aveva la paura di sorridere, alitto cattivo, digestione, masticazione pessima e con tutte le conseguenze del caso. Nella clinica ho trovato un'ottima organizzazione, una macchina che posso dire funziona al 100%, struttura, attrezzi, apparecchiature di ultima generazione e già da lì ho avuto una buona impressione. Diciamo riprendere la vita sociale che avevo una volta quando non avevo problemi di denti. Comunque, per quanto se ne voglia, la masticazione, la vita sociale come un semplice sorriso, il parlare tranquillamente, ahimè, sono dati importanti. Direi di affidarsi tranquillamente alle cure, ma senza avere ombra di dubbio. Dai medici hai anche l'assistente di poltrona, sono tutti pronti ad ascoltare, aiutare e far capire. Capire le problematiche che ci sono dietro a un intervento, cosa fanno, cosa non fanno. Da un a 100? Mille, mille. È importante il sorriso. E finalmente posso sorridere.